Avete adorato questo nuovo format, quindi rieccoci qui con la ruota, però ci sono diverse novità. Ci avete proposto due cose davvero interessanti che vogliamo, diciamo, provare perché vogliamo vedere se migliora ancora di più il format. Quindi preparatevi perché ci saranno tante novità e tante cose fighe che abbiamo preparato. E ragazzi, come va? Io sono Fereniki e io sono Stef e che seggi chiama Gmod e torniamo qui con la nostra ruota di Gmod e adesso Stef vado in giro perché è un po' curioso, sì, non aspetto altro, ciao, sto già girando. Ti ho preparato un sacco di cose straordinarie. Lo so, per quello sono andata dritta a girare la ruota e non aspetto altro. Dai, allora, ti dico, oggi devi davvero sperare di beccare il giallo perché c'è della roba col giallo che, mamma mia, allora, non è blu, non è rosso, non è verde, guarda che... Ce la fa! Ce la fa? Io non ho parole, ogni volta... La fortuna di Fereniki! Ogni volta che tocca questa ruota... Le armi? Capito? Una cosa sola, mi chiamo Fereniki di cognome armi, capito? Ok, ok, ok. Allora, devi aprire Q, Fere. Ok. Devi andare su Weapons. Ok. Ok. E cosa devo provare? Devi andare su Stark Industries. Ok. E selezionare Iron Man. Ok. Sono diventata... Oh mio Dio! Sono partita! Un po' troppo, Fere! Aspetta, aspetta, aspetta. Proviamo i pugni. Sì. Ok. Grazie. Oh mio Dio, che vero che ho capito! Allora, aspetta, mi sono appannata anche gli occhiali dall'ottoposto... Perché sono diventato un gatto? Era talmente forte il pugno. Ma sei diventato un Pepe! Perché così non mi picchi, magari, se lo aspetto da gatto. Allora, dammi un attimo che ti creo dei manichini e lo provi nei massimi potenziali. Ti dico che può sparare anche i missili, eh, non dà solo pugni. Come? Vola, pugni, missili... Fa di tutto, Fere. Allora, io me ne volo via. Allora, qui bisogna stare molto calmi perché ha una potenza davvero eccessiva. Lo so, vai, dai un pugno a quello, normale. Allora, dobbiamo un pugno normale. Oh, mamma mia. La vedi l'onda d'urto? Sì che la vedo, Fere. Mamma mia, Stef. Ok, poi prima ho visto che hai saltato e tipo sei tornata... Allora, no, è successo che io ho premuto destra e adesso provo a farti vedere se riesco a fare la stessa cosa. Allora ci provo, eh. Ok. Allora salta. Sì. Poi va giù. Oh! Hai visto cosa succede? Mamma! Allora, praticamente fa un salto in alto. Cade. Onda d'urto esplosiva. Sto distruggendo. Sì, vai. Punto al manichino. No, aspetta, mi ha cambiato di nuovo. Cosa ho tirato, Stef? Oh, mamma mia, mezza di abilità. Aspetta. Ma che cos'era? Allora, praticamente con R si cambiano tutte le abilità che puoi fare. Lo so, lo so. Para un missile, Fere. Sì, li hai visti? Uh, ma è un laser. Aia! Scusa, Stef. Sono incontrollabile, scusami. Scusami. Qua io ne ho inizio già a girare la ruota perché tu hai già provato una roba fighissima e voglio provare qualcosa di figo anche io. Quindi... Ok, perfetto. Allora, allora, qualcosa di bello. Vediamo che ti esce. Eh, ne ho messo tanta roba bella. Ne ho messo tanta, 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 tanta. Fere, Fere, Fere. Vai, vai, vai. Secondo me è un rosso verde. No? Armi pure a te. Ma guarda, questa ruota continua sempre ad andare lì. Eh, perché abbiamo messo le cose... Allora, scusa, a questo punto... Mi posso autoscegliere? No, prova l'altro potere del supereroe. Li mettiamo a confronto e vediamo già qual è il migliore. Allora, dovrebbe essere questa qua. Ok, per io ci provo, eh. Vai. Faccio così? Fere, che succede? Ma ci riesci? Uh! Oddio. Uh! Ma che cosa sta succedendo? Come ho fatto? Allora, devi premere spazio dopo che decidi dove andare. Allora, il mio è stortissimo. Non so perché è stortissimo. Tieni premuto sinistro, ok? E premi spazio. Ah, ecco. Ok, si può volare parecchio. Cioè, tipo, io faccio... Bello. Ma si riesce anche a muoversi tutto il tempo? Cioè, proprio come fa Spider-Man. Sì che fa... Sì, se sei molto abile, sì, sì. Provati da intorno alla torre. Aspetta, aspetta. Aia, che male. Sto incastrando in continuazione. È difficile. È abbastanza difficile da utilizzare come arma. Diciamo che quella di Iron Man era più facile. No, no, no. Io sono abbastanza negato. No, no, però fa. Le due cose che ci avete proposto è... Se ci capita un building, si mettiamo una torre distruttibile e giochiamo a Jenga. Quindi l'obiettivo è, diciamo, continuare a togliere dei pezzi senza far crollare la torre. Ovviamente chi la fa crollare perde. Chi la fa crollare perde. La seconda cosa che ci avete proposto è di fare una sfida finale con tutti gli oggetti che abbiamo utilizzato. Quindi quelli che ho provato io saranno i miei, quelli che ha provato Ferre saranno i suoi. Ok. E ci sfidiamo uno contro l'altro. Ferre, cosa ti è capitato? E nel mentre è uscito un blu. Mistero. Mistero? Mistero, sì. Allora, per il mistero dovrei aver messo una cosa. Ed è questa. Allora, se non funziona te ne faccio provare un'altra. Ok. Però se funziona è bello. Vediamo. Oh mio... Ho già capito. Allora. No, non funziona così. Pensavo che lo dovessi distruggere. Provati po' a salirci sopra. E facevo un sacco di palline colorate in giro. Aspetta, ok. Succede qualcosa, Ferre? Ma me le mangio! Me le mangio! Se tieni premuto? Me le mangio tutte. Io sapevo che infatti queste sono le classiche palline di G-Mod che devi mangiare. Serve per curarti. Per curarti. Ok, ok. No, allora aspetta, aspetta, aspetta. No, fammi provare qualcosa di più. Esatto, esatto, esatto. Questo era davvero un mistero comunque. Sì, sì, sì. Non si capiva bene un po' così. Allora facciamo questo. Il senso degli ups. Che diciamo che secondo me nel mistero ci sta bene. Ferre, questo è divertente. Te lo ricordi? Ne abbiamo provato uno simile. Vai. Lo so già. Questo è strabello. Sì, sì. E infatti pensavo fosse di quelli perché per quelli ho iniziato a picchiarlo, capito? Perché pensavo fosse di questa tipologia. Questo è troppo bello. Anche perché più lo colpite un pezzo più diventa veloce, vedete? Cioè se lo colpite una volta va a rallenti. Se lo colpite la seconda inizia a surrecciare velocissimo. Dai un bel verde. Guarda. Giallo non è. Blu non è. Secondo me è rosso l'hai chiamato. Ma è un po' più avanti. Un po' leggeramente. Sventura. Capita, sempre la sventura. Guardate che è una cosa assurda. È una cosa assurda, Steph. Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Guarda la ruota. No, no, non vale, Steph. Ormai io sto già guardando tutto e mi sto limitando a scegliere e non ascoltarti. Ok, ok, ok. Vai, aspettiamo. Steph, ci ho pensato. Ok. Però questo te lo dico già. Me l'hanno consigliato i consolini. Cioè l'ho letto nei commenti e mi hanno detto. Ferenichi, se a Steph capita di nuovo la sventura, mettigli questa cosa. Ok? Quindi se poi non ti piace, è colpa loro. Ferenichi, i consolini che hanno commentato hanno visto la serie di Strandedip? Sì. Ok. Mettilo, Steph. Mettilo. Ferenichi. Allora, non so se ti farà molta paura, perché non è che c'era troppa scelta, però mettilo. Fammi vedere. Vai. Però dai. No, guardalo. Adesso io faccio una cosa, perché la cosa più bella che io avevo in mente era questa. Lo posso guidare, secondo te? Sì, devi dare l'arrochismo, mi pare. Ah. Feren, ma perché tu non riuscivi a guidarlo? Non lo so. Forse perché l'hai evocato tu e invece lo dovrei evocare anche io. Con queste, provando. Questa? Questa? Sì. Sì, sì, non partiva. Eh, mi spiace. E fa anche molto male quando parte. Davvero? Sei felice di dover... Scusa, scusa un attimo. Vieni qua. Sei felice di dover cavalcare un serpente? Aia, fa tutto male. Fatto. Vieni, bella. Ma non mi sembri tanto... Steph, hai rotto la ruota. Oh, ops. Ok, sei rimessa a posto. Sei rimessa a posto. Beh, insomma, forse... Mettila, Steph, dai. È meglio di raggiungerla. Togli il serpente e andiamo avanti. Basta. Vabbè, fosse stato bello esteticamente... Giro la ruota. ...avrei avuto paura. No, purtroppo sì, non ce ne sono. Per fortuna, sembrava più un bruco che un serpente. Però sono tutti così molto giocosi. Comunque è divertente da guidare, quindi almeno l'ho apprezzato. Dai, vediamo cosa ti capita. Magari subito un rosso per la vendetta. No, non credo. No, non sembrerebbe. Oh, Dio, eh. Guarda che è abbastanza veloce. Guarda che forse si ferma. Ma dai. Te l'ho detto. Quindi, allora, verde e veicoli. Veicolo, 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 veicolo. Vediamo un po'. Ok. Ok. Stiamo ragionando qui. È la macchina anti-zombie. Ok. Vedi che... Esatto. Oh, mamma mia, è stracattiva. Cattiva, ma è bellissima. Ok. Allora, dato... E il disco a cosa serve? Il disco teoricamente può far comparire degli zombie. Ok. Però, credo che dovevo aggiungere prima gli zombie come NPC e poi impostavo che questo mi piaceva sponare. Allora, mettimi qualcosa. Esatto, 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 esatto. Quindi adesso dammi un attimo, ti metto qualcosa di carino che puoi picchiare e provi questo veicolo che, ammettilo, è straordinario. È bellissimo, è fantastico. Buon divertimento, bene. E li hai trovati alla fine. Si muovono anche, quindi è ancora più divertimento. Vediamo se funziona. È una bella macchina anti-zombie. Sì, è una bella macchina anti-zombie. È una bella macchina anti-zombie. Oh, li distrugge pure. Ma dovresti pure poter attivare tipo un lanciafiamme. Ma io, ma perché mi stanno saltando addosso? Non lo so. Ma non lo so, mettete. Ce n'è ancora una terra. Riesci a stenderli, Ferre? Fanno un po' schifo. Guardali. Ma è questo? Ma questi sono mostri, non sono zombie. Mi sa che li sputtavano zombie. Ma che schifo, Ferre. Poison herd crab. Sono granchi. Aspetta che ce n'era anche un altro. Sì, li sparavano zombie particolare. Vabbè, abbiamo una sorta di campo di bambino. Che è successo? No, Steph, mi ha fatto troppo paura. Cosa è successo? Ti è saltato addosso? Stagli lontano, ti salta in faccia. No, 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 no. Mi ha perso un mezzo infarto di aver perso dieci anni di vita in questo momento. Aspetta che voglio vedere come lo fa. No, Steph, non lo guardare. Ma è che schifo! Ma è mio! Allora, io ti devo raccontare. Io ne ho ucciso tipo quattro. Tranquillamente. Si sono fatti uccidere. Ultimo. Decidi di saltarmi in faccia. Quindi pensa te. Pensa te. Te, pulisci tutto. Sennò non gioco più. Ferre, allora, vieni con me. Bolla un pochettino, ci spostiamo. Ce ne andiamo in una zona dove non c'è nessuno. Così ti calmi e torniamo a fare il video. Non ci seguono. Su, muoviti. Dicevo, dato che è capitato il mistero. Ok. Facciamo il Jenga, dato che ce l'avevano proposto. Tipo io parto e rompo. Ma sta crollando a sola? No, sta solo dondolando. Ok. Vai. Ho rotto una colonna in alto. Ok. E per ora è tutto a posto. Tocca a te, Ferre. Ok. Tutto a posto. Provo a rompere, diciamo, un pezzo di muro. Vediamo così cosa succede. Dovresti poterlo fare. Dovresti poterlo fare. Però questo pezzo non crolla. Vediamo invece qua. No. No, no. Questo non si sta spaccando. A meno che non sia super resistente. Vabbè. Invece ha rotto un soffitto. Beh, se lo andiamo avanti a pezzi di muri e vediamo chi la fa cascata prima. Va bene. Anche, anche, anche. Possiamo rompere un po' tutto. Ok. Tocca a me qui. Rompiamo. E per ora direi che dovremmo essere abbastanza tranquilli perché la parte è alta. Certo. Ok. Io vado di colonne. Voglio vedere quando crollerà. Io faccio il cattivo. Vado a metà altezza e ne rompo una. Adesso è già un po' più in bilico. Fere, stai attento che potrebbe già crollare. Non crollare. Guardala. No, non crollare. Uh, sono a rischio. Non crollare. Vado. Ta, ta. Non crollare. Non crollare ancora. Uh. Vediamo. Ok. Ok. Ancora tiene, vero? Tiene. Anche se un po' obbliqua, eh. E sta iniziando a dondolare. Allora, io rischio un po'. Vado qui. A questa altezza. Ta, ta, ta. E crolla. No. Crolla. Crolla. Uh, è salva. Ma dai. E tocca a te. Sto rischiando moltissimo. Dai. Non ci credo. Beh, ma adesso crolla sicuro. No, no. Sta barcollando. Non crolla. Già due volte che barcolla così. Tocca a te. Sta barcollando sempre di più, Steph. No. Non mi hai barcollato così. Guarda, non crolla. Non crolla. Fai da brava. Ferre, non male. Sto andando troppo in alto. Adesso ne rompi un altro. Non me ne frega nulla. No, no. No, perché ti voglio far perdere. Vai. Vuoi fare l'impavido? Fallo. Dimostralo che vuoi essere impavido. Vai. Ok. Io non ho mai detto di voler giocare in modo troppo aggressivo. Va bene, però qua Steph è quello che sta giocando meglio. È crollata, vero? Vabbè, era ovvio. Non è rimasto più nulla. Però è divertente. Dovremmo farlo anche con altre strutture perché è davvero, davvero divertente. È proprio figo. Sì, 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 sì. Mi è piaciuto questo. Mi è piaciuto. Ok, torniamo nella nostra bella ruota. È stata una sfida davvero carina. Grazie di averci la consigliata. Se vi vengono in mente altre cose da consigliarci per questo format, fate pure che ci divertiamo un sacco. Ehi, Fere. Sfida finale. Allora, come sono consigliati i consolini con le cose migliori che abbiamo trovato durante, diciamo, il giro della ruota, ci sfidiamo. Purtroppo Fere è decisamente avvantaggiata. Allora, sì, io ho scelto Iron Man e per l'occasione mi sono anche vestita da Iron Man così come Steph. Abbiamo visto. Io mi sono messo questo che è carinissimo. Andiamo, Steph. Dai, finiamo in fretta questa sfida perché tu perderai. Ok. Facciamo così, però. Però aspetta, tu salti davvero in alto. Ho una sfida interessante da proporti. Però aspetta, se io faccio così. Ma? Adesso mi butto, aspetta. Ok. E ti distruggo la ruota. Tu non hai più posto. Cioè, la torre, tu non hai più posto. E riesci a distruggerla? Non lo so, vediamo. Oh, sì che riesco a distruggerla. Oh, no. Oh, no. Fra un po' crollo. Vabbè, anche questo vale. Si distruggono gli edifici per far cadere gli avversari. Non proprio, dato che hai un potere distruttivo incredibile. Io sto qua sopra al sicuro. Dove sei? Eccolo. Eccolo. Aia, però mi sto facendo malissimo con la ruota. Uh, dai che muore. No, no, ce l'ho. Guardate come sono arrampicato. Perché continua a dire ruote? È una torre. Guardate come sono arrampicato. Che è successo, Steph? Ho sbattuto la testa nella torre. Bene, che ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, ti piace, e sempre una volta che vedete il nostro video potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao.